100 alberi messi a dimora nel parco di Villa Piccolo per tutelare le biodiversità e fronteggiare la globalizzazione salvaguardando le produzioni locali. E' l'ambitioso progetto nato a Capodorlando in occasione della giornata nazionale degli alberi, a promuovere l'iniziativa l'ESA, ente di sviluppo agricolo, che ha aderito alla giornata con una manifestazione dedicata al tema della biodiversità vegetale. Il messaggio che vogliamo mandare alle scuole e alle nuove generazioni è che questa è una ricchezza per il territorio, tant'è che la Sicilia quest'anno è candidata come capofila a dirigere il cluster della biodiversità mediterranea all'Expo di Milano del 2015. Quindi questo è il tema, qui facciamo ricerca ed innovazione e trasferiamo i risultati della ricerca e dell'innovazione sul territorio dei Nebrodi per far sì che ci sia maggiore rispetto per l'ambiente ma un'agricoltura più fiorente. Nel parco della tenuta di Villa Piccolo un centinaio di studenti orrandini hanno così messo a dimora alcuni esemplari di specie autoctone fornite dall'orto botanico di Palermo. Arancio dolce sanguinello, mandarino di ciaculli, melograno primosole, mandorla pizzuta, susinocchio di bue, pero butirra, sono solo alcune delle specie che da oggi cresceranno nel tratto di terreno antistante l'ex centro Aias, ora diventato sede di staccata dell'ESA nell'ambito di un importante protocollo di intesa con la fondazione Piccolo. Credo che anche questo sia poi fare cultura, soprattutto far vedere ai ragazzi come si può curare l'ambiente e come l'ambiente diventa parte integrante della loro vita, della nostra vita, del territorio. Sicuramente siamo nella vocazione propria della famiglia Piccolo, non c'è alcun dubbio su questo. È un ulteriore notevole arricchimento di quello che è stato fatto, di quello che abbiamo fatto in questi mesi e l'iniziativa di oggi speriamo di poter proseguire. Ma guardi, questa è veramente una bellissima giornata. Io arrivo qua e vedo tutti questi ragazzi delle scuole che vivono in questo momento importante perché qui non c'è presenza del parco o non presenza del parco. Qui c'è la tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente, lo dico come Presidente regionale di Federparchi, si fa ovunque. Si fa soprattutto con le scuole. Questo è un momento importante perché tutto parte dalle radici. Oggi mettiamo delle radici insieme all'ESA e insieme al Comune di Capodorlando in questo bellissimo posto che diventa patrimonio dell'ambiente. Oggi per esempio Ciccio Calanna ha messo in piedi un'organizzazione di una manifestazione importante in questa giornata nazionale della festa dell'albero. Per cui bisogna dare merito a Francesco Calanna per questa iniziativa, ma bisogna anche dare merito al Presidente Benedetto per Villa Piccolo con questa sinergia che si è innescata con il Comune, diciamo molto importante e proficua. Grazie a tutti.